Io sono Roberto Vacca, il direttore del servizio regionale di Elisoccorso, intanto vi ringrazio e ringrazio il sindaco e tutti coloro che hanno contribuito a mettere a disposizione il campo sportivo, finalmente ce l'abbiamo fatta stasera perché eravamo in dubbio, c'era previsione di neve ma abbiamo fatto la danza della non neve e siamo riusciti ad arrivare. Il sito di Giaveno si inserisce a partire dalla prossima settimana nella rete regionale del servizio di Elisoccorso notturno, adesso vado a memoria ma mi sembra il 119 sito, è un traguardo importante, voi siete sede di un'ambulanza medicalizzata e questo campo sportivo ci serve tantissimo per fare i cosiddetti rendezvous, quindi per centralizzare i pazienti ad elevata complessità clinica per trasportarli negli ospedali di riferimento regionale, quindi grazie a tutti, grazie per la collaborazione e direi buon Natale a questo punto.